L'esercito russo e quello ucraino hanno concordato un cessate il fuoco e la istituzione di corridoi umanitari per l'evacuazione della popolazione civile dalle città di Mariupol e Volnovaka. Tuttavia autorità locali ucraine affermano che i trasferimenti sarebbero stati sospesi e denunciano violazioni della tregua da parte russa. Per lo stallo Mosca dal canto suo accusa Kiev, secondo il ministro degli esteri Lavrov, sarebbero le autorità ucraine a impedire ai civili di partire. L'annuncio della prima tregua concordata tra le parti dall'inizio dell'invasione era stato dato dal portavoce del ministero della difesa russo Igor Konashenkov. La misura è entrata in vigore sabato 5 marzo alle 10, ora di Mosca. Intanto continuano a filtrare le immagini dei bombardamenti russi anche su zone abitate dai civili. Alla periferia della città di Cherniv, dove tiri di artiglieria sono arrivati sulle case private, si registrano numerosi incendi. La mia casa è divampata come un fiammifero, i miei quattro cani sono morti bruciati. Siamo riusciti a malappena a scappare e a salvarci. La tregua è stata confermata anche da Kiev. Mikhail Podolak, consigliere del presidente Zelensky, ha scritto sui social che le parti hanno temporaneamente cessato il fuoco nella zona dei corridoi, dove si stanno formando colonne di persone che dovranno essere evacuate.